Cercherò di non ripetermi troppo rispetto alla presentazione che ho fatto da questo stesso podio poche settimane fa in occasione dell'inaugurazione della sala dell'evoluzione umana, in occasione della quale avevo parlato sostanzialmente degli stessi argomenti perché alla fine è questo di cui ci occupiamo con il nostro gruppo. Ho cercato nella presentazione di oggi di dare un taglio leggermente diverso da alcuni temi, ne affronterò anche degli altri diversi. Alcune cose le darò un po' per scontate, ci sarà tempo più avanti per le domande e comunque il video della precedente presentazione è disponibile online quindi se volete avere un'idea più ampia degli argomenti che sto per trattare vi invito, grazie a Scienze in Rete, di recuperare il video della presentazione di dicembre. Africa orientale, quindi partiamo questo viaggio con alcune delle testimonianze più antiche per quel che riguarda l'evoluzione umana che possiamo ritrovare in Africa, non le più antiche ma tra le più antiche e in particolare parleremo di due siti nei quali con il nostro gruppo abbiamo la fortuna di lavorare. Breve autopresentazione, il progetto si chiama TOR, Tanzania Human Origins Research, è stato anche menzionato in una delle presentazioni della mattina, è un progetto di ricerca che portiamo avanti da quasi dieci anni e che vede coinvolte quattro università italiane, la mia, quella di Perugia ma anche Sapienza, Firenze e Pisa e una serie di altre collaborazioni con università sia italiane che straniere. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di evoluzione umana ma non solamente di evoluzione umana, lo scopo principale scientifico del progetto è quello non tanto di studiare in senso specifico fossili, umani, che pure diciamo è un lavoro che svolgiamo con piacere, ma soprattutto quello di cercare attraverso un approccio più ampio, multidisciplinare, di contribuire a ricostruire gli ambienti in cui questi processi evolutivi sono avvenuti, gli ambienti in cui i nostri antichi parenti hanno mosso i loro primi passi ed eventualmente anche le variazioni che questi ambienti hanno subito nel corso del tempo, per esempio in relazione a cambiamenti climatici. Tra i partner locali del progetto ce ne sono alcuni universitari ma mi piace qui menzionare soprattutto il nostro padrone di casa in un certo senso. I due siti di cui vi parlerò tra poco, il Dubai e l'Aetoli, si trovano entrambi all'interno dell'Angorongoro Conservation Area, che è uno dei parchi più importanti della Tanzania e direi del continente africano, ed è gestito da questa autorità, l'Angorongoro Conservation Area Authority, che è un po' l'equivalente di un ente parco, se guardassimo al nostro paese, e che appunto è stata istituita per gestire quest'area straordinariamente importante per l'evoluzione umana. Perché? Perché è un'area in cui le rocce affioranti e i fossili in esse contenuti e gli strumenti litici che talvolta vi si trovano, sono in grado di raccontare in modo pressoché ininterrotto, cioè con poche lacune stratigrafiche, quasi 4 milioni di anni di evoluzione umana. E più o meno adesso vedremo alcuni dei passaggi fondamentali di questo percorso. All'interno dell'Angorongoro Conservation Area però non c'è soltanto patrimonio culturale, in senso paleo-antropologico, ma anche, e questo è un piacere per gli occhi e la mente, ecosistemi attuali incontaminati, straordinariamente interessanti, e un contesto anche socio-culturale di grande rilievo. La principale comunità che vive il parco e collabora anche nei nostri progetti di ricerca è quella dei Masai. Nella presentazione di dicembre ci eravamo focalizzati sulla domanda perché l'Africa, no? Inutile sottolinearlo qui, ho anche tolto quella slide, l'Africa è il luogo in cui la stragrande maggioranza del cespuglio evolutivo umano si è sviluppato. Ho lasciato questa slide più specifica perché la Tanzania. L'altra volta avevo raccontato del perché gran parte dei siti oggetto di studio si localizzino lungo la Rift Valley ed è un problema soprattutto tafonomico, cioè di accessibilità degli affioramenti. Perché la Tanzania? Perché è un luogo in cui la Rift Valley è presente, il paese è praticamente attraversato da questa grande valle tettonica, i siti da studiare sono tanti, soprattutto nella parte settentrionale, e all'interno di questi siti si trovano, come accennavo prima, rocce che raccontano 4 milioni di anni più o meno di questa storia con una serie di specie ominine che è possibile trovare che nel cespuglio che vedete qui sintetico sono evidenziate in rosso. Vado più nello specifico e quindi ci tuffiamo nell'angoro-angoro. Siamo nella parte, in questa immagine satellitare, nella parte nord-occidentale del parco, al confine con un altro parco famosissimo che è il Serengeti che vedete qui. I due siti di cui vi sto per parlare sono la Gola di Olduvai, Olduvai Gorge, che si sviluppa ai margini sudorientali delle grandi piene del Serengeti, e Laitoli, qui, 40 chilometri più a sud, sul plateau che guarda al lago Eiasi, che qui non si vede perché è fuori mappa, ed è ai margini del complesso vulcanico di Ngorongoro. Quella che vedete qui è proprio la caldera di Ngorongoro, che dà il nome a tutto il parco, che è una delle caldere non riempite completamente da un lago più grandi al mondo. È il sito naturalistico, è incredibilmente bello. Partiamo dal sito più antico tra i due, Laitoli. La colonna stratigrafica che vedete a destra è quella che sintetizza le unità che affiorano nell'area di Laitoli. Vedete che si va da poco più di 4 milioni d'anni fino a circa 2 milioni di anni fa. Ricordate questo numero perché poi con Olduvai ne riparliamo. La successione stratigrafica di Laitoli è estremamente interessante perché è costituita quasi esclusivamente da rocce prodotte da attività vulcanica. A differenza di molti altri siti della zona in cui le rocce sedimentarie sono state il frutto di accumulo di sedimenti, per esempio sul fondo di laghi o fiumi, in questo caso quasi l'intera successione è formata o da lave, quindi rocce basaltiche, o ceneri vulcaniche compattate, quindi tufi vulcanici. Tra le unità stratigrafiche che affiorano a Laitoli, quella che ci interessa più in questa sede sono i cosiddetti Upper Laitoli Beds, nei quali sono stati trovati nel corso di decenni di scavi, dagli anni 70 a oggi, migliaia di fossili divertebrati, tra cui ominini. L'unica specie a cui questi ominini sono riferiti è una specie famosa, Australopithecus afarensis, e la specie di Lusi, per capirci. Lusi è etiope, ma da Laitoli proviene, assieme a tanti altri fossili, questa mandibola, LH4, credo sia il numero, che è l'olotipo della specie, quindi è l'elemento che è stato selezionato nel 76, i miei colleghi paleoantropologi possono correggermi, non sono paleoantropologo, questo specifico subito, non mi fate domande difficili, poi faccio rispondere ai miei colleghi, nel 76 questa mandibola fu scelta come rappresentante per la descrizione della specie Australopithecus afarensis. In una porzione di qualche decimetro, più o meno a metà degli Upper Laitoli Beds, centrata intorno a 3.660.000 anni, Ah, scusate, apro una parentesi, proprio perché si tratta di depositi vulcanici, è molto semplice datarli, con metodi assoluti, che si basano sullo studio di isotopi radioattivi, di elementi abbondanti in rocce vulcaniche. Quindi le date che vedete qui sono date numeriche, estratte, ricavate con metodi di datazione assoluta. Dicevo, 3.660.000 anni fa si forma una porzione degli Upper Laitoli Beds che si chiama Footprint Tuff, il tufo a impronte, che ripeto è formato da qualche decimetro di livelletti sottili di ceneri compattate, dentro le quali è possibile trovare impronte. Non solo impronte umane, ma impronte di decine di specie diverse di animali. Davide Iurino stamattina vi ha fatto vedere l'immagine che state per rivedere. Laitoli è un'area tappezzata da impronte, se ne contano veramente diverse migliaia. Tra queste, chiaramente, spiccano quelle umane. Le piste che vedete a sinistra, in basso a sinistra, sono state scoperte dal gruppo di Meriliki, che rinomineremo tra poco per Olduvai, nel 1976. Brevissima parentesi tafonomica. Eruzione vulcanica, paesaggio ricoperto da ceneri, completamente. Pioggia, probabilmente ci trovavamo o all'inizio o alla fine della stagione delle piogge, quindi con acquazzoni abbondanti ma brevi. Le ceneri si imbevono d'acqua, diventano fangose. Gli animali lasciano le proprie impronte. Il sole, di cui ha parlato David stamattina, porta a un rapido dissecamento di questa fanghiglia, facilitata dalla composizione chimica, che è unica al mondo, quasi. Sono ceneri carbonatiche queste. L'acqua evapora, si induriscono rapidamente. Eruzione successiva, a distanza forse di ore, giorni, dalla precedente. Tappo, protezione, impronte, conservate, fine nostri giorni. E questo si ripete non una, non due, ma almeno dieci volte. Ci sono dieci livelli a impronte nel footprint tuff all'Aetoli. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare all'Aetoli nel 2015-2016. Questo è un modello 3D delle impronte scavate da Merilichi. Tre individui, G1, G2, G3. G1 è piccolino, cammina sulla sinistra. G2, G3 un po' più grandi. G3 posa i piedi sempre nelle impronte lasciate da G2 che lo precedeva. Quindi le due piste sono quasi perfettamente in fase. Nel 2016, 15 o 16, non ricordo, lavoriamo in queste trincee e troviamo impronte di altri due individui. S1, S2. La lettera proviene dal nome del sito a impronte. G nel caso dei Lichi, S nel nostro caso. Non mi dilungo molto sul significato di queste impronte perché l'ho fatto già a dicembre e, ripeto, si può recuperare il video e sono disponibile ad approfondimenti successivi. Ricordo soltanto l'elemento che, diciamo, spicca maggiormente rispetto agli altri, e cioè l'enorme dimensione di S1 rispetto alle previsioni. S1 è un'australopitecina di un metro e sessantacinque d'altezza. Quindi è, ad oggi, l'individuo, almeno di, non solo di australopitecus afarensis, ma di qualsiasi specie di australopitecina, con la statura stimata più alta, maggiore. Gli è valso il soprannome di Chui sulla stampa al momento della pubblicazione. Il nostro Chubecca è alto, è peloso, quindi ci può stare. Ricostruzione, quindi, che stamattina Davide Urino vi ha già mostrato, con riflessioni che abbiamo fatto nel lavoro sul dimorfismo sessuale, quindi dimensioni diverse tra maschio e femmina, e poi anche qualche inferenza, che parte dal ragionamento sulle dimensioni, di tipo sociale. Come erano composti i gruppi di australopitecina? È probabile che ci fosse un maschio di grande taglia a gestire un harem di femmine più piccole, come nel gorilla? Può essere. L'evidenza di Laetoli ci suggerisce questo, ma cerchiamo altre prove per dimostrarlo. E chiudo il discorso Laetoli con questa, diciamo, prospettiva. Ci stiamo ancora lavorando, non è semplice. Abbiamo preso la decisione, lo dicevo anche a dicembre, etica, da un certo punto di vista, di non scavare prima di essere certi di come tutelare questo patrimonio, che è un patrimonio meraviglioso, ma anche effimero. Le impronte di Laetoli sono soggette a una serie di processi di degradazione biologica, fisica e chimica, e quindi stiamo collaborando con l'Angorongoro Conservation Area Authority per elaborare un piano di conservazione, a breve, medio e lungo termine. Quando questo sarà, diciamo, operativo, il nostro auspicio è continuare a scavare, perché siamo certi di trovarne altre. Quanto meno quelle che congiungono le trincee che abbiamo già scavato, e lì ci sono per forza, ma auspicabilmente anche nelle vicinanze, perché il livello a impronte, almeno nel sito S, è esteso. E andiamo a Olduvai. Olduvai è un sito a 40 chilometri a nord-nord-ovest di Laetoli, noto alla comunità scientifica da più di un secolo. Fu scoperto, diciamo, dagli occidentali, almeno nel 1911, quando un entomologo tedesco, che era lì per altri motivi, si imbatté in una serie di fossili, e recuperò, trovò anche uno scheletro, che è quello che vedete in alto a destra, che fu poi successivamente denominato OH1, Olduvai Hominid 1, il primo. Questo scheletro stuzzicò la curiosità di una serie di altri ricercatori, tra cui un giovane, allora, Louis Licky, keniano di nascita, chiaramente colone inglese e di famiglia, che cominciò a organizzare delle primissime spedizioni esplorative con colleghi tedeschi, e poi successivamente, quando Tanganyika passò al Regno Unito, organizzò egli stesso delle altre spedizioni. Tra l'altro, Licky fu uno dei ricercatori che guidò i studi pionieristici sulla datazione di OH1, e si scoprì già allora che si tratta di un sapiens di 10-11 mila anni fa circa. Licky e la sua seconda moglie, Mary Licky, lavorano a Olduvai incessantemente, soprattutto lei, che era un animale da campagna proprio, per 30-35 anni, svolgendo scoperte straordinarie e contribuendo a rendere Olduvai, ma direi l'intera paleoantropologia, nota a livello globale, anche a livello pop. La successione stratigrafica di Olduvai sostanzialmente prosegue rispetto a quella di Laetoli, perché parte da due milioni di anni fa e arriva ai giorni nostri. Le due successioni sono effettivamente in continuità stratigrafica, e lo sappiamo oggi perché ci sono dei progetti di carotaggio svolti a Olduvai alla base delle carote che sono state scavate, sembra essere stata riconosciuta la successione di Laetoli, quindi c'è davvero continuità stratigrafica. Due milioni di anni in cui in questa zona sono successe tante cose dal punto di vista ambientale, ed è quello che stiamo tentando anche di contribuire a ricostruire. Mi piace molto usare questa immagine che ho preso da un opuscolo turistico dell'Angorongoro di qualche anno fa, non più in stampa, in cui le varie specie umane reggono la loro barretta della distribuzione stratigrafica, mi fa molto ridere questa cosa. C'è qualche imprecisione, ma funziona ancora, e già questo vi mostra che nella parte bassa della successione ci sono almeno due specie che convivono, e queste due specie sono Paranthropus boisei e Homo habilis. Dove sono vissute queste specie? Sono vissute in un'area occupata non da una gola che è molto più recente, geologicamente parlando, ma da un grande lago, un grande lago alcalino, come molti altri oggi nella Rift Valley, praticamente tutti, ai margini del quale si sviluppava un ecosistema di savana boscata, piuttosto rigogliosa, alla faccia del bipedismo solo nella savana aperta, nell'ambito del quale queste due specie hanno convissuto per forse un milione d'anni o qualcosa meno, probabilmente convivendo, convivendo probabilmente anche, differenziando le proprie nicchie ecologiche. Sappiamo che Paranthropus boisei era prevalentemente erbivoro e Homo habilis aveva presumibilmente una dieta più variegata, non disdegnando anche l'utilizzo di carne. Nell'immagine bellissima di Maurice Anton, qui non si vede bene, forse c'è un gruppetto di habilis che macella una carcassa. Assieme agli ominini, altre forme di mammiferi, in questo caso, alcune imparentate con forme attualmente viventi nelle attuali savane africane, penso riconosciate giraffe, antilopi, gazzelle, rinoceronti, alcune appartenenti a gruppi estinti, quindi qui ci sono calicoteri, sivateri, credo ci siano, ecco qui, questo non è un cavallo, ma è un cavallo tridattilo, quindi ha tre dita nella zampa. In questa fetta di successione stratigrafica, nella parte alta, si realizza una transizione importante anche dal punto di vista culturale, perché da strumenti molto semplici, detti olduvaiani, per l'appunto, descritti da Mary Leakey per la prima volta, in cui lo strumento, diciamo, emblematico è il chopper, si passa a strumenti più raffinati, il cui, diciamo, elemento più emblematico è il bifacciale o amigdala, che normalmente si associa con l'evoluzione di una sua specie successiva, che è Homo ergaster. Vi faccio vedere un po' di immagini degli originali, che abbiamo avuto la fortuna di filmare nel Museo Nazionale della Tanzania, immagini estratte dal nostro documentario che trovate su YouTube gratuitamente, La Storia di Olduvai. Questo è l'olotipo di Paranthropus Boisei, OH5, il cranio più completo di australopitecina disponibile, almeno in Tanzania. Questo è l'olotipo di Homo habilis, una mandibola, OH7, seguita a stretto giro da un cranio altrettanto ben conservato, sempre di habilis, che è OH24, che dovrebbe arrivare, eccolo qua, e poi chiude un calvario di Homo ergaster, che viene dalla parte alta di questa prima fetta di successione stratigrafica, OH9. Cosa facciamo noi? Beh, questo è un esempio di quello che facciamo col nostro gruppo, un esempio di studio di forme non umane, che però contribuiscono a chiarire anche dei dubbi e delle domande aperte su aspetti legati all'evoluzione dell'uomo. Black Sun, la storia del coccodrillo, stavamo facendo una ricognizione in questo sito, si chiama DK, sono tutti riconosciuti con degli acronimi, viene fuori questo blocco di concrezione carbonatica dentro il quale, dal quale, sporgevano alcuni, le punte di alcuni denti in bizzarra, diciamo, organizzazione spaziale, no? Tutti dritti. Dopo, giorni e giorni di lavorazione nel nostro laboratorio sul campo, di preparazione, sono venuti fuori dei pezzi di un cranio che qui sono, per riconoscerli meglio, sovrapposti a un cranio di coccodrillo del Nilo attuale, si tratta di un cranio di coccodrillo fossile. Questo è un modello 3D in cui vedete sia le parti conservate che parti che Davide Iurino ha ricostruito specchiando quelle presenti. Perché studiare un coccodrillo? Beh, innanzitutto contribuiamo a ricostruire quegli ambienti di cui vi parlavo prima. Qui siamo proprio alla base della successione, quasi 2 milioni di anni fa. Il coccodrillo frequentava naturalmente il lago, il lago di Olduvai, però questo è un coccodrillo particolare, la specie è Crocodilus antropophagus, perché probabilmente non disdegnava, anzi sicuramente non disdegnava nutrirsi anche di omenini. Ovviamente mangiava di tutto, lo sappiamo perché ci sono prove dirette di predazione su ossa di Homo habilis verosimilmente riferibili a questa specie di coccodrillo del Pleistoceno inferiore. Della parte media della successione stratigrafica si sa poco in realtà. Siamo nella parte centrata intorno a un milione di anni fa, sappiamo che il lago comincia a ritirarsi, a restringersi, sappiamo che in questa fase almeno a livello delle nostre latitudini viviamo un periodo di recrudescenza climatica importante, a livello di Africa equatoriale sappiamo poco e su questo infatti ci abbiamo scritto un progetto che abbiamo appena iniziato quindi speriamo di poter fornire qualche dato in più sappiamo che qui la specie dominante qui come in tutta l'Africa era già Homer Gaster nella parte alta il clima si fa ancora più secco mediamente secco rispetto al passato il lago non c'è più e si forma il fiume che inizia a incidere la gola la gola inizia a esistere come tale circa 500 mila anni fa mezzo milione di anni fa e forse in meno di mezzo milione di anni raggiunge la forma che ha oggi ha una gola profonda in alcuni punti 90-100 metri in questo pezzo di successione stratigrafica si collocano alcuni studi recenti che abbiamo svolto un sito in cui abbiamo lavorato siamo riusciti ad ottenere date assolute con metodo C14 applicato su uova di struzzo e si tratta di un sito in cui troviamo fossili di circa 35 mila anni fa quindi siamo nel plestocene superiore questo è un grafico che vi mostra la distribuzione dei gruppi che abbiamo recuperato non è per niente sorprendente che i bobidi siano più abbondanti in Africa è praticamente sempre così ma ci sono anche altri gruppi estremamente interessanti zebre questo è un cranio quasi completo proditori gerbilli e anche lepri saltanti questa è una straordinaria zampa in connessione anatomica credo sia l'unica disponibile nel record fossile anche animali di grande taglia questo è l'antenato estinto del bufalo sincerus anticus un terzo più grande mediamente del bufalo attuale africano e tanti carnivori per mio gusto che è il mio gruppo preferito ghepardi iene maculate questo è un muso perfettamente conservato di licaone volpe questo quasi insignificante resto con tre denti è forse il più importante dell'intera collezione perché? perché le volpi oggi non ci sono in quel pezzo d'Africa sono limitate ad ambienti subsahariani o addirittura sahariani comunque desertici e quindi questo è un indicatore climatico importante tre denti che ci dicono che 35.000 anni fa come già immaginavamo sulla base di altri dati il clima in quella zona doveva essere ben più arido dell'attuale e poi sempre tra i cani il lupo africano di cui abbiamo avuto la fortuna di trovare non uno ma tre scheletri praticamente completi un altro cranio molto ben conservato questo è il più completo tra quelli disponibili e anche qui si tratta del record più completo finora disponibile per l'intero continente ci stiamo lavorando molto vi lascio con la solita slide di ringraziamenti due progetti che attualmente ci sostengono di più quello del ministero degli esteri il cui responsabile è Giorgio Manzi e quello l'ultimo print il cui responsabile sono io per qualsiasi informazione consultate il nostro sito e social network poi sono qua potete chiedere quello che volete e grazie 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 grazie